Mio compito sarà quello di rappresentare un po' l'uso, il placing therapy dell'eschetamina nella pratica clinica italiana, guardando un po' la letteratura internazionale e anche le esperienze europee e italiane che sono state fatte in questi anni recenti. Quindi si parte con la depressione resistente, questa è una pubblicazione, una delle poche che ha cercato di stimare con uno studio registro la prevalenza della cosiddetta depressione resistente. A me non mi interessa tanto adesso dare dei dati precisi, faccio solo un commento in generale, che parlare di depressione resistente avendo in testa che sia un sottotipo particolare di depressione è un errore clinico, a mio avviso, nei termini che gran parte dei pazienti che noi trattiamo, nei CSM, nei reparti, sono in qualche maniera difficili da trattare e hanno un profilo di farmacoresistenza o di resistenza ai trattamenti in generale. Se pensiamo che un comune arrivo di un paziente in un centro di salute mentale per una prima visita molto probabilmente ha già fatto un serotoninergico o un farmaco facile da usare o ritenuto facile da usare già da parte del medico di medicina generale. E quindi avere in testa che ci sia una resistenza specifica con dei centri particolari di assistenza e cura che erogano a interventi particolari forse è un errore di prospettiva che potremmo risparmiarci. Quindi sono i pazienti comuni che noi trattiamo, semmai altro è di restadiare e graduare lo spettro di resistenza. Le definizioni infatti sono queste, sia negli Stati Uniti che in Europa sostanzialmente è sufficiente una non risposta a due antidepressivi e forse l'EMA dà una sfumatura più utile dal punto di vista clinico perché la mancanza di un miglioramento clinicamente significativo che non è definire la risposta in termini psicometrici stricto sensu. Quindi questa è una prima sfumatura che aiuta. Qui entra in gioco però la psicometria. Ora noi non abbiamo una grande pratica quotidiana nell'uso della psicomatria in psichiatria. Manca il tempo, manca la voglia, manca la formazione o perlomeno lo si usa in contesti sperimentali poi generalmente nell'attività di tutti i giorni non si mettono i numeri nelle cartelle cliniche sia in ambulatorio come in reparto. Questi invece in qualche maniera hanno una loro utilità. Sicuramente una visione riduttiva però è utile quantomeno per interpretare la letteratura e anche per capire alcuni significati clinici che la letteratura anche su eschetamina propone. La non risposta la sappiamo. Manca una risposta superiore, un abbattimento superiore al 50% alla risposta. C'è però il concetto di risposta parziale. Cioè fa qualcosa il farmaco ma non lo fa abbastanza e quindi dal 25 al 49%. Questo è un punto su cui tornerò dopo. E anche il seguente, la non risposta, non c'è un miglioramento clinicamente significativo. C'è il treatment failure inferiore al 25%. Altro concetto importante è il concetto di remissione. Lì non c'è una variazione percentuale, lo sappiamo bene, ma è semplicemente un abbattimento sotto una certa soglia, un cut off di guarigione dai sintomi. Ma esiste anche il concetto di remissione parziale che rimanda ai sintomi residui che sono quelli che sono il terreno per alimentare, nuove relapse, nuove ricadute nei quadri clinici depressivi. Ora, cosa dobbiamo avere in mente quando noi affrontiamo un paziente difficile da trattare? Tre elementi. L'elemento diagnostico, l'elemento del trattamento che stiamo somministrando e la valutazione di quello che accade con questo trattamento, cioè la valutazione della risposta o non risposta allo trattamento medesimo. La diagnosi. La diagnosi molto spesso avviene su un'impressione clinica, non avviene con l'uso di interviste strutturate che pur con tutti i limiti sono utili per catturare e ricordarsi di cosa chiedere a un paziente prima di ottenere una diagnosi solo di depressione maggiore, ma di vedere se c'è una comorbidità in asse 1 o in asse 2. Questo è molto importante perché stratifica il paziente già a livello di valutazione iniziale. Un altro punto a sottolineare è il trattamento. è adeguato. Adeguato cosa vuol dire? I tempi e i dose le conosciamo bene ma l'adeguatezza può voler dire anche la concentrazione del farmaco e la concentrazione del farmaco, l'ha detto prima Andrea Sconca, potrebbe anche essere ricavata da una valutazione delle concentrazioni ematiche dello stesso antidepressivo. Non abbiamo grandi solidità, credo che solo le linee guida tedesche, quelle peraltro che anche Andrea Sconca ha curato e continua a curare, sottolineano questo punto. Per alcuni farmaci le evidenze sono solide, per i triciclisti lo sono, ma anche per alcuni serotoni energici. Infine la valutazione della non risposta. Qui si ritorna alla psicometria. Come ho valutato la non risposta? È una perdita di risposta, è una non risposta assoluta, quindi c'è una non risposta primaria o secondaria e quindi questi sono tutti elementi che inducono a continuare con questo circolo. Questa non è una fotografia statica. Spesso bisogna ricordare che la diagnosi la devo rivedere, devo confermare la stabilità della mia diagnosi, posso benissimo e senza fare alcun errore diagnosticare una depressione maggiore in senso unipolare e solo il tempo riuscirà a dirmi se questa invece era una depressione con sottostante una bipolarità. Tutti questi elementi quindi devono incoraggiare sempre nelle operazioni cliniche di cura a domandarsi sempre se la diagnosi è corretta quando le cose non vanno molto bene e se è adeguato al nostro trattamento, ad esempio abbiamo sottotipizzato il tipo di depressione, non c'è grande abitudine a distinguere i diversi sottotipi diagnostici della depressione per una fotografia trasversale e per distinguerla da una resistenza per così dire falsa o pseudoresistente che è un fattore cruciale che può indirizzare il trattamento verso direzioni non corrette. Quindi degli strumenti anche biologici, li ricordo solo perché la loro validità soprattutto sul primo c'è la testistica farmacogenomica è ancora piuttosto debole però sono scenari futuri che potrebbero essere implementati. Ora disponiamo di certi kit commerciali che non hanno nessun valore prognostico e quindi costano e non servono. Sul TDM invece alcuni dati importanti rimangono validi e si stanno espandendo. Come stadiamo noi un paziente che non risponde bene? Ci sono diversi metodi di stadiazione, qui ne sono elencati alcuni più famosi statunitensi per lo più ma anche europei, l'ultimo quello del Mozzie staging models e io vi invito solo a guardarlo in orizzontale questa diapositiva e vedete però che tutti includono, quasi tutti includono le varie strategie che si usano per ricercare una risposta al trattamento e tanti inseriscono una terapia somatica in primis la terapia elettroconvulsivante. L'evoluzione è questa, i metodi di staging sono diversi ma la prospettiva farmacocentrica, cioè non risponde al trattamento, è una prospettiva evidentemente troppo riduttiva. Bisogna allargare almeno allo stato clinico, cioè quanto dura quell'episodio lì, quanto grave è e ancora alcuni fattori legati al paziente, cioè l'età assoluta del paziente e ancora gli aspetti psicosociali, i disturbi o i sottostanti tratti disfunzionali di personalità e forse quest'ultima classificazione olandese che sarà meno pratica però è quello che in generale noi facciamo in clinica. Quindi i modelli di stadiazione psicometrici in qualche maniera vanno sempre integrate con un lavoro clinico che istintivamente credo ognuno debba seguire. Questo è cruciale prima di restituire l'immagine di un fallimento di cura o la necessità di intervenire in maniera anche a livello comunicativo con il paziente, è già stato detto prima. Ora posso quindi stressare questa diapositiva, cioè il concetto di depressione farmacoresistente o resistente con il concetto di depressione difficile a trattare, solo due punti sottolineo che con la depressione difficile a trattare si sottolinea soprattutto due dati importanti che sono molto più centrati sul paziente singolo e non su studi di popolazione. La TRD va bene per fare i trials, va bene perché alcuni criteri assoluti devono essere soddisfatti per gli studi versus placebo comparatore attivo, quando di fronte un paziente ogni paziente è diverso e quindi è vero in mente che il suo funzionamento psicosociale e che delle volte, qui dico una cosa magari che può suonare un po' provocatoria, non è proprio necessario o non si può, perché non si può, non si riesce a raggiungere la remissione e la risposta, ma un gestione ottimale può essere un risultato più che accettabile nel trattare alcuni pazienti. Delle volte i pazienti se sono molto gravi e migliorano abbastanza possono percepire molto questo miglioramento, quindi i dati psicometrici duri del 50-25% forse vanno integrati con un'ottica un po' più olistica. Cosa proponiamo noi ai pazienti quando le cose non vanno molto bene? La parte sinistra della diapositiva ce l'abbiamo in mente, possiamo switchare il farmaco, possiamo ottimizzare il trattamento soprattutto salendo con il dosaggio, possiamo aggiungere dei farmaci che non sono qualificati come antidepressivi oppure possiamo combinare farmaci ad azione antidepressiva. Dall'altra parte posso usare strategie somatiche di trattamento, ma questa è la teoria, nella pratica clinica italiana noi questo scenario non ce l'abbiamo in mano, non solo non ce l'abbiamo in mano ma neanche lo proponiamo proprio perché non c'è, magari non ne siamo neanche tanto conventi. Allora io mi interrogo se questo scenario monco operativo italiano debba essere forse rivisto perché noi dovremmo avere l'obbligo di informare su tutte le strategie di cura di un paziente che non riesce a guarire da un episodio depressivo o da una depressione cronica. Adesso non qualifichiamo ulteriormente il paziente, è difficile a trattare. Quindi la prima domanda è quella di dire ma io tutti questi strumenti ce li ho o posso dare un servizio di rete e di invio? Ho informato quantomeno il paziente che può essere trattato in questa e in quest'altra maniera? Le strategie andando più sul tecnico sono quelle che abbiamo già sottolineato ma io direi che adesso di passare avanti. Volevo sottolineare solo un punto che spesso la strategia più frequente che adottiamo è quella di cambiare l'antidepressivo. Delle volte non conviene soprattutto se abbiamo ottenuto una risposta parziale quindi è meglio forse combinare con un altro antidepressivo o aumentare con un farmaco non antidepressivo. La chetamina qui dove o l'eschetamina dove il psicologa già è uno stadio abbastanza precoce. Nello stadio 2 vedete strategie di aumento della terapia, di combinazione, già chetamina, possiamo leggere schetamina, può avere una collezione. Lo stesso quando i giochi si fanno un po' più complicati. Vado avanti. Ovviamente questa è una figura ricorsiva come quelle di prima e quindi non è detto che quello che ho tentato fino adesso possa riprovarlo con un altro composto. Ovviamente le possibilità e le aspettative di risoluzione sono minori ma è giusto provarlo. Tutto questo noi finora l'abbiamo avuto in gioco con una prospettiva unica che è quella dell'ipotesi monoaminergica della depressione. Tutti i farmaci che abbiamo a disposizione fino all'arrivo di schetamina sposano questa teoria monoaminergica che sia noradrenalina, dopamina o serotonina o le combinazioni di tre sistemi, lì è il cerchio farmacodinamico dell'azione. Schetamina in Europa e in Italia scompagina questa cosa perché quindi c'è un effetto etichetta. È il primo farmaco che arriva in Europa e in Italia con un'indicazione precisa, depressione farmacoresistente, possiamo metterla in senso lato così. Due, meccanismo d'azione diverso, sistema glutamatergico. Tre, indicazione precisa, una seconda indicazione anche su una presunta azione sul farmaco di emergenza che è quello che forse ha caratterizzato di più. Si capisce bene quindi che le aspettative verso questo prodotto ha alimentato delle attese molto grandi, lo sottolineava oggi la dottoressa Cusin, cioè sia i medici possono reagire e dire ma questo farmaco è incredibile oppure ma questo farmaco non è credibile, è solo un'operazione di marketing o può esserlo solo quello, ma una visione più neutra e di identificare just a tool, diceva oggi la dottoressa Cusin. Quindi è solo un altro strumento diverso da poter usare quando le cose si fanno un po' più complicate ma anche nelle fasi abbastanza precoci di una non risposta, manteniamo pure questo termine. Oggi la dottoressa Cusin ricordava anche un'altra cosa, professoressa Cusin, che la combinazione negli Stati Uniti avviene con tante cose, triciclici, ha nominato gli IMAO, ha citato ripetutamente gli IMAO, anche terapie somatiche, la terapia elettroconvulsivante, ma non solo perché le ketamine cliniche selezionano i pazienti particolarmente difficili, ma perché la possibilità di combinare a livello regolatorio eschetamina e ketamina con questi prodotti, con questi altri composti, è fattibile. L'EMA è più restrittiva, la combinazione vedete solo con i duali o con i serotoni energici e quindi questo è un primo aspetto. Le indicazioni ufficiali, come vedete, sono queste. Quindi combinazione con SSRI o SNRI, episodio da moderato a grave. Qui torno alla psicometria. Il moderato grave, sì, può essere un'impressione clinica, meglio misurarla con le scale di valutazione. Un Hamilton, una Montgomery, Asper, quello che volete. La seconda indicazione non è rimborsata, ma è sulla prima che noi ci concentriamo molto, però le aspettative dei clinici era quello, ma non funziona subito, le idee suicidari non sono passate a questo paziente. Il farmaco non funziona. Credo che sia un errore di aspettative, come sottolineava la professoressa stamane. Le controindicazioni. Le controindicazioni sono relativamente poche, sono scritte in maniera molto chiara, quindi un aumento pressorio importante o di pressione intracranica e queste sono le condizioni che escludono dall'uso di eschetamina e questo si traduce quindi in un ampio spettro di collocazione di questo farmaco nella clinica. Altro dato importante, la prescrizione deve essere di uno psichiatra, questo è un punto importante e quindi il secondo è che ci vuole una diretta supervisione medica o comunque di un operatore sanitario. Il terzo che richiede una supervisione dopo la somministrazione, quindi i tempi di valutazione di trattamento si allungano. È un po' una cosa che è successa già, abbiamo già visto in psicotria a proposito di un long acting. L'olanzapina pomoato facevamo e facciamo la stessa cosa. Tre ore, post injection syndrome, quindi sono farmaci che richiedono una cautela d'uso ma anche un problema organizzativo notevole. Oggi la cosiddetta, sì abbiamo 170 pazienti in lista d'attesa, non possiamo permetterci di fare mantenimenti per pazienti che tolgono il parco. Anche la terapia elettroconvulsivante è lo stesso problema perché sono pochi i centri. e poi l'altra cosa è la consegna di avvertire al paziente di risparmiare attività rischiose, che vuol dire congelare quel paziente molto spesso nelle sue attività lavorative per una buona parte della giornata. Questo è un altro limite importante nell'applicazione della farmacoterapia. Le patologie cardiovascolari e respiratorie clinicamente significative e instabili impongono una modifica della cautela d'uso nel senso che ci vuole un centro che abbia disponibilità, il testo recita, di attrezzature adeguate per rianimazione e operatori sociosanitarie. Non dice nient'altro di più che questo e questo è un altro punto che vorrei sottolineare. Ora cosa comincia a dire la letteratura su eschetamina? Questa è una meta-analisi significativa su il vantaggio in questa meta-analisi che dà eschetamina o comunque un notevole posizionamento di eschetamina rispetto ad altre strategie. A me al di là del risultato colpisce di più la parola augmentation. Cioè se è un antidepressivo dovrebbe essere una combination, non un augmentation, se dovessimo stare sul tecnico. Di fatto il nuovo meccanismo d'azione probabilmente fa chiamare augmentation questo composto. Cerco di andare rapidamente perché volevo poi soffermarvi su una parte più pratica che credo sia altrettanto, almeno ci può far pensare. Credo che non sia molto tempo poi per parlare. Allora questo lavoro illustra solo come la chetamina funzionerebbe, l'eschetamina funzionerebbe meglio se guardiamo gli RCT a stadi di resistenza meno alti rispetto a quegli alti. Questo è una regola di tutte le terapie dedicate alle farmacoresistenze o alle resistenze nella depressione. Perfilo la terapia elettroconvulsivante riesce meglio se la depressione non è tanto grave e cronica. Lo stesso a stimolazione vagale. Qualsiasi terapia somatica funziona meglio se la fai prima. Qui è una proposta di come può essere collocata nella pratica clinica e forse si capisce meglio in questa diapositiva dove se un paziente viene trattato con un duale o con un serotoninergico ci sono due vie. Una più diretta, ho una parziale risposta, bene posso subito combinarla con un'eschetamina. Quindi una via molto rapida. L'altra è quella di proporre anche uno switch di farmaco da serotoninergico a serotoninergico, da serotoninergico a nord a duale e poi accoppiare eschetamina. Come vedete quindi il passaggio e la facilità e la possibilità di collocare da questo consensus europeo questo farmaco è anticipato rispetto a quello che ci si aspetta. Lo scenario allora il limite è quello di dire ma noi lo possiamo dare solo con un duale o un serotoninergico. Questo è un grosso limite. Se vediamo però questo ottimo studio europeo che illustra non solo questo selezionava pazienti non responder dopo due cicli di antidepressivo ma non responder veri cioè sotto la risposta parziale. Quindi un treatment failure e se vediamo a un mese i tassi di non risposta sono a sei mesi scusate molto alti ma rimangono molto alti anche a 12 mesi è il quadrattino viola. Quindi la consegna era hai un paziente farmaco resistente bene ingresso nello studio cambiando il farmaco. Poi cosa succede? Dopo un primo trattamento le colonne nella parte destra della diapositiva se voi guardate riguardano sostanzialmente i pattern prescrittivi questo è un trattamento aperto sono soprattutto serotoninergici o duali in combinazione in augmentation a dire che è una limitazione sì ma di fatto e questo lo vediamo nella pratica lo sappiamo già in buona sostanza sono i farmaci che anche gli specialisti usano con grande comfort anche quando i quadri sono complicati. Quindi la limitazione di collocare il farmaco in augmentation con questi prodotti è relativa. L'altro dato che fa molto pensare è che nonostante il primo cambiamento che permetteva l'ingresso in questo studio di monitoraggio più di 400 pazienti studiati dopo un anno il paziente non responder stava con quel farmaco lì e questa è un'altra cosa che si vede molto spesso nella pratica clinica. Cioè c'è un aspetto e ci sono interrogati gli autori ma come mai se le cose vanno male il paziente rimane con lo stesso farmaco fino a un anno? La risposta può essere mancano le alternative non ho quelle che descrivevamo prima oppure un appiattimento un po' nichilistico sfiduciato è un paziente troppo grave e lo gestisco di un'altra maniera ma non cambio il farmaco non mi viene in mente di cambiarlo. Una revisione della letteratura sulla resistenza quindi è cruciale visto che il titolo era il rapporto ospedale territorio guardiamo nel long term perché questo farmaco è stato molto enfatizzato nel suo uso come una promessa nell'acuto. L'azione antisuicidaria, il sollievo immediato dai sintomi depressivi ma la depressione è una malattia ricorrente grave cronica molto spesso e quindi a me di avere un farmaco che funziona subito anche fosse e poi mi lascia a metà strada credo che imponga vedere cosa succede, cosa fare di questo farmaco anche quando le cose vanno bene. Gli studi qui, le risultate di questo bello review italiana è, e gli studi sono misti, cioè se il farmaco viene continuato, riassumo in pochissimo per lungo periodo, le cose vanno meglio, se invece faccio studi di discontinuazione le cose non sono così certe, quindi non si hanno dati robusti su che cosa accada nel lungo lungo periodo secondo gli studi che sono stati fatti e rivisti in questo lavoro. In realtà c'è uno studio molto importante che è il Sustain3 che è in pratica che va a valutare più di 1148 pazienti e questi valutano a circa più di due anni di follow up di durata di mantenimento con eschetamina. Lo score di riduzione è significativo, meno 12 punti, i discorsi sono importanti e questo rimane anche nel tempo. Questo è un dato da sottolineare, quindi se continuiamo il trattamento probabilmente, ed è quello che poi vedo di riuscire nell'ultima parte a raccontarvi, questo è una valutazione con la CGI, se uno odia le scale di valutazione una CGI è semplice perché è una valutazione istantanea di quanto grave è quel paziente rispetto a tutti i pazienti che hai visto depressi nella tua vita, quindi più esperto il clinico e meno bias mentali ha, più riesci a esprimere una valutazione attendibile o comunque la fotografia del suo modo di lavorare. E noi vediamo che le colonine grigie scure all'ingresso delle fasi di continuazione sono piuttosto alte e si mantengono a distanza di due anni e più, fino a quattro anni. Qui veniamo alla fase esperienziale e questo è uno studio molto utile, credo che sia, adesso non ho una letteratura aggiornatissima, ma credo sia sicuramente uno dei pochissimi o ancora l'unico è italiano, dobbiamo ringraziare agli autori di aver messo insieme quando più di 21 centri, una ventina di centri in Italia hanno usato eschetamina, hanno messo, hanno raccolto i dati e hanno visto che su questi 116 pazienti hanno visto cosa accadeva al T0, al baseline, a un mese e a tre mesi rispettando poi i tempi iniziali del trattamento di eschetamina. I pazienti erano piuttosto impegnativi, qui non c'era real life e quindi pazienti comorbidi, pazienti con lunga storia di malattia, insomma i classici pazienti che generalmente identificheremmo come, lì bisogna vedere quanto gravi, però identificheremmo almeno distinto per applicare il farmaco e provarlo ad usare. I risultati sono molto buoni, ecco queste sono le comorbidità psichiatriche e quindi vedete c'è anche i disturbi di personalità che non è una cosa così scontata, che è uno dei preditori di resistenza, avere ad esempio un cluster B sottostante a un disturbo depressivo, oppure l'abuso di sostanze, i casi non sono molti ma ci sono anche questi, quindi erano pazienti piuttosto complessi da reale pratica clinica. I drop out sono bassi, però viene fuori una cosa piuttosto curiosa, ovvero che la risposta, la non risposta, la colonnina azzurra, blu, a un mese è piuttosto alta, che sarebbe invece il dato enfatizzato dagli studi registrativi, dove il grosso della risposta avviene dopo la fase di induzione, entro la quinta settimana, poi le cose vanno bene se continui il farmaco. Qui si dice no, a un mese le cose sono ancora così così, ma a tre mesi le cose vanno molto molto meglio, quasi ci fosse un effetto dilazionato se si continua il trattamento. Questo credo sia un elemento che suggerisce come bisogna insistere un poco al trattamento prima di respingerlo e non avere troppo concentrazione aspettative sulle fasi di emergenza, urgenza. Questo impone anche dei problemi organizzativi notevoli o comunque significativi, dipende dal centro di cura. Questa è la media di abbassamento, vedete 35, quindi uno scoring alla Montgomery Asperger che indica una gravità significativa e come si abbassa questo lo scoring nel tempo, a un mese, ma ulteriormente ancora al terzo mese di trattamento. Lo stesso gruppo ha analizzato dei sottotipi, la depressione bipolare, questi vanno addirittura meglio perché parrebbe un effetto ansiolitico, però va bene, sono degli indizi, lo cito solo per sottolineare perlomeno che anche i depressi bipolari rispondono bene. Questo è vero per tutte le terapie di resistenza alla depressione. Noi l'abbiamo visto sulla stimolazione vagale, questa cosa qua. I pazienti bipolari rispondono tanto quanto gli onipolari quando si usa quella tecnica di stimolazione somatica. in Veneto, adesso passo all'ultima parte, quanto tempo? 5 minuti? Sì, 5 minuti. 5 minuti ce la faccio. Come è stato interpretato un po', un effetto etichetta del farmaco? In Veneto viene scritto così e siamo nel 22, luglio 22, si stabilisce che la prima prescrizione del farmaco dovrà essere effettuata in ambito di ricovero ospedaliero. Questo non c'è nella scheda tecnica, però l'interpretazione restrittiva del Veneto ha ovviamente complicato molto la praticabilità. Non tantissimo, perché se tu hai un dipartimento con un reparto il CSM, te la giochi, fai in dei hospital o in ricovero ordinario l'inizio del trattamento e poi vedi come procedere. Non sarebbe un vincolo, però l'effetto finale è stato quello di inibire l'uso i clinici veneti su questo farmaco. Io sono qui probabilmente anche per questo bias qui. Io avevo fatto uno studio registrativo di questa molecola sugli anziani, avevamo fatto a Padova, ma poi eravamo anche gli unici che avevano un minimo di esperienza, per cui poi c'è stato un effetto, ma che ha un po' di pratica e quindi abbiamo accumulato un po' più di pazienti, di questo si tratta. Giugno di quest'anno, grazie anche a colleghi che hanno cercato di spiegare questa cosa, la cosa cambia, debba avvenire in regime di ricovero ordinario degli hospital o in regime ambulatoriale. Basta che questo ambulatorio sia attrezzato. Adesso non vi leggo tutto il decreto del direttore generale della sanità sociale del Veneto. Quindi c'è di nuovo una correzione e un allargamento del potenziale del farmaco. Ora vi rappresento solo la mia casistica, vi faccio vedere due video, dopodiché la mia presentazione può concludersi. Noi usiamo questo metodo di staging perché è comodo, è semplice, ma prende in considerazione almeno dei dati clinici, cioè quanto grave è se il quadro è acuto o cronico, se è subsindromico o sindromico e quanto grave è se c'è la psicosi o non c'è la psicosi. Questi sono gli elementi differenzianti che anche per eschetamina che non ha indicazione quando ci sono sintomi psicotici rilevanti. La casistica è questa. È un po' maggiore, io ho scelto solo perché avendo altre proposte di trattamento per la depressione ho tolto quelli che proprio nelle aspettative perlomeno nostre non andavano collocate in una proposta di eschetamina, ma vi assicuro che forse il lavoro maggiore è proprio avere a che fare con... Se noi identifichiamo dei centri cosiddetti per la resistenza, credo che ci possa essere un problema di aspettative che poi è molto difficile da gestire, perché poi bisogna dire va bene ma se non funziona non propongo quel trattamento. Questi sono i due scenari. Io a questa famiglia, a questo paziente, come lo lascio? Questo mi ha creato notevoli problemi, quindi io credo che non debbano esistere tanti centri super specialistici, ma che ogni dipartimento si doti della possibilità di erogare trattamenti i più ampi possibili, proprio per rilanciare e non è detto che perché se non funziona una cosa non si debba più pensare ad altro, è stato ricordato anche prima dai colleghi. Qui le conclusioni, noi con l'esperienza che avevamo più con i pazienti anziani, le cose sono andate bene, come vedete dai risultati, e vi propongo solo, quindi ci sono significativi tassi di remissione, ma sottolineare le cose quando vanno male. I drop out durante la fase di induzione, problema logistico. Avevamo un paziente ad esempio che veniva da fuori regione, alla terza volta, quarta volta il paziente è droppato, ma perché è troppo faticoso venire fino al centro vostro per fare la cura. Cioè bisogna ricordare anche questo, quindi il rischio di addiction da farmaco è proprio sconfermato dalla pratica clinica, l'ha ricordato oggi anche la Cusing, è pesante prolungarlo. Quindi bisogna snellire, proponendo a livello prossimale del paziente la proposta di cura e poi prendere confidenza che il farmaco magari restringe anche il periodo di osservazione. Questa è la curva Montgomery-Asberg e vedete i dati si stanno accumulando, quindi tanti pazienti li abbiamo tra il primo e il terzo mese, alcuni anche a due anni, questi non vengono neanche rappresentati. Questa è una curva molto simile a quello dello studio ESC italiano, real ESC italiano. Mi avvio a concludere, questi sono gli effetti collaterali in linea con quelli della letteratura, la dissociazione c'è, è molto gestibile, transiente, ricorre, tende delle volte a spegnersi con il protrarsi del trattamento. Avendo molti pazienti più avanti con gli anni d'età media, il campione nostro è più dei 60 anni, il capogiro e la sedazione sono le due cose che vediamo di più e che si mixa delle volte all'aspetto dissociativo. Vi faccio vedere adesso due pazienti, la prima che è quella che mi ha convinto, non mi aspettavo assolutamente un trattamento, una risposta del genere e mi ha incoraggiato ad andare avanti.